Sono due squadre forte, penso che farà la differenza che arriverà più fresco alle partite visto che comunque adesso si gioca tre volte a settimana quindi penso che quello che rimarrà al terzo posto è quello che mentalmente e fisicamente sarà meglio delle altre squadre Poi ti chiede il numero di maglia se c'è un posto particolare Io ho il numero di maglia perché io ho sempre giocato il 21 però il 21 era Ambrosini quindi non mi pareva il caso Volevo il numero di mia figlia, ce l'hanno denato l'11 ma non mi pare il caso neanche di chiederlo Poi ho cercato il 6 uguale, il 20 uguale e ho detto meglio che faccio i fatti miei, c'era il 3, conosciuto a Lonzo, su a Sunderland e mi hanno detto che era di Lonzo e lo preso subito Grazie